Ultimi appuntamenti per quanto riguarda il Challenge Crudeli e la classifica che ogni anno assegna l'Oscar ai migliori podisti della provincia. A due gare dalla fine, dopo la dodicesima prova, la Maratonina dei Sei Ponti di Aliana, a guidare le classifiche sono Giacomo Bugiani ed Elena Cerfeda, entrambi della Silvano Fedipistoia. Bugiani che sembra inattaccabile a 9 punti di vantaggio su Giacomo Bruschi del New Team Running e ben 14 sul compagno di colori Abdelatif e Tacatarte. Più staccati Niccolò Chiti della Podistica Quarrata, Antonio Di Sandro della Stanca di Valenzatico e Davide Fiesoli dell'Aurora Montale, comunque ancora in corsa per un posto sul podio. 9 lunghezze da difendere anche per Elena Cerfeda che si è lasciata alle spalle e le colleghe della Silvano Fedi, Stefania Bargiacchi e Giada Batantuono. Appena fuori dalle medaglie ma con ancora spazio per rimontare ci sono Linda Grazzini del Kralavis Copit e altre Silvano Fedi come Valentina Dami e Margherita Paccavia. Nelle varie classifiche di categoria Luca Silvestri, Podismo Masecozzile, Capeggia e veterani, Roberto Fedi, Silvano Fedi è primo fra gli Argento, Franco Dami sempre Silvano Fedi fra gli Oro. Nelle Ledis prima posizione per Cristina Mannello, Silvano Fedi negli Argento premio speciale Dorina Filippi, Silvano Fedi è davanti a tutte. Ovviamente come si può capire dalle classifiche individuali, nella graduatoria per società il dominio assoluto è quello della Silvano Fedi Pistoia che nonostante 60 punti di handicap per aver vinto nella scorsa edizione è già davanti a tutti con 54 punti in più della Stanca di Valenzatico e 60 della Montecatini Marathon. Appena dietro alla società termale ci sono la Podistica Quarrata, l'Aurora Montale, Masecozzile e i Randaggi di Bugiano, tanto per citarne alcune. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 7 dicembre con il campionato provinciale Wisp di Mezzofondo su pista in programma Pistoia.